Come la scienza e la tecnologia possono migliorare la sicurezza e la sicurezza nel paese sviluppato? Grazie, questa è una questione molto relevante. E' anche la peculiarità di questa iniziativa che stiamo mettendo in place, qui nella Expo. Questo è un problema molto difficile per tutta la comunità e per tutta il mondo. Ovviamente, in queste regioni sviluppano o sviluppare, bisogna, sicuramente, sviluppare un'azione di ricerca e innovazione. Potrei annunciare alcuni. Per esempio, bisogna identifichare le ricche che resistono attaccare le pezzi, le altre infezioni. Questo, in order di permettere la biomasse di essere ok per un lungo tempo. Oltre i processi di migliorare la stabilità del materiale, per evitare la degradazione di alimentazione, etc. I can give you a number of actions. But the major point is that such a research and innovation action should be flanked by other actions, political, social actions, addressed as an example to permit the assess of local farmers, small farmers, women, who are the first active in the field, assess these people to economic support, infrastructures, technologies, but also seeds, seeds to use in the land. So we need to have a number of actions, boundary actions that allow research and innovation to be implemented on site. We don't need to have technologies coming from the north, or the very developed countries, very established technology, because very often they are not the best ones to apply on site. So we need to work on site. We have to allow the people there to decide for the technology that they are requiring, and support them, providing the assess to different tools for selecting the right technologies, selecting the right plants, which can provide the best results there. This is very, very important. So we need to put together a number of strategies for supporting the innovation at the local stage, in-situ innovation. We don't need to do other things. We need to boost the local innovation.